Che significa che non puoi più partire? Mi dispiace che ho dei problemi col software Vabbè ma non puoi lavorarci dopo E' che sul web non si può perdere tempo, capito? Perché io adesso sarei una perdita di tempo No, no, è gommia, potrebbe venire in mente a qualcun altro Matteo, hai idea degli scazzi che ho avuto con i miei per fare questa vacanza? Lo so, lo so E me lo dici così solo adesso, all'ultimo momento? E che proprio adesso che non posso Emma, Emma non fare così, aspetta Ti giuro che ci andiamo dopo Hanno ragione mia, sei solo un egoista Ma perché fai così? Cerca di capire Emma, aspetta un attimo Lasciami, lasciami a te Calma, calma Ehi, calma, sei impazzito Emma, la mia ragazza Non si fa, non faccio un commerciale Emma, 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 aspetta!